ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come brave and beautiful l'amatissima fiction turca si avvia al gran finale la messa in onda delle ultime puntate rappresenta per i telespettatori un vero e proprio evento da non perdere sono milioni infatti i fan che stanno aspettando con trepidante attesa di scoprire cosa li attende cesur e suon riusciranno a vivere il loro amore serenamente il perfido rizza lo farà franca ma vi siete mai chiesti com'è l'attore fuori dal set brave and beautiful è la serie più amata e chiacchierata del momento i due protagonisti la bellissima sua nell'affascinante cesur sono disperati ed affranti nonostante il forte e sincero amore che li unisce non riescono a vivere il loro rapporto serenamente la storia d'amore dei due è infatti costellata da eventi drammatici e spiacevoli e dietro ogni malefatta dietro ad ogni destino spezzato si nasconde il perfido e spietato rizza l'uomo è assetato di vendetta dopo aver trascorso buona parte della sua vita in carcere ha tutta l'intenzione di vivere a modo suo facendo di tutto pur di ottenere successo rispetto e fama i loschi piani di rizza infatti non si fermano all'acquisizione di uno status lui brama il comando sogna di dettare legge nella piccola cittadina che anni prima lo ha bistratto cesur inizia seriamente a temerlo ha ben compreso che l'uomo è affetto da un patologia psichiatrica è arguto e senza scrupoli è capace di uccidere a sangue freddo rizza è dunque il cattivo della serie ma com'è in realtà l'attore che gli presta il volto il suo nome egito gener classe 1996 è laureato in ingegneria elettronica e comunicazione presso università tecnica di indiz ha preso un master ma ben presto ha compreso che la sua vera passione fosse la recitazione l'attore non ha nulla in comune con lo spietato rizza ed oltre ad essere una persona squisita e di animo gentile è considerato un vero e proprio sex symbol eccolo in questo scatto che ha fatto il giro del web semplicemente bellissimo grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video